Cipressi, dolci colline coltivate, vigneti e oliveti, meglio se al tramonto. Potrebbe essere questo l'archetipo del paesaggio toscano, tanto amato quanto idealizzato, ma le foto da cartolina che oggi attingendo al lessico contemporaneo definiremo piuttosto instagrammabili, rappresentano solo la dimensione estetica di un fenomeno complesso. Il paesaggio infatti supera lo stereotipo, perché è la sintesi di storia e natura, ovvero di territori che insediamenti millenari hanno costruito e modellato. Il paesaggio è la forma del territorio, è la testimonianza in immagine che noi percepiamo di questa plurima vicenda storica, che è significativa in sé, ma è significativa per la nostra identità. Io vengo in Toscana e subito ho un'immagine della Toscana, che se vado a ben vedere nasce da una ben precisa vicenda storica e da un ben preciso dato naturale. Una premessa doverosa in un contesto come quello del convegno sulle politiche per il paesaggio toscano, organizzato a Firenze dalla regione e dall'osservatorio del paesaggio. Per la Toscana il paesaggio è valore, non solo per la qualità della vita, ma anche per l'identità di chi lo abita, per l'economia e il turismo. Così per garantire la costruzione di un futuro sostenibile, il governo regionale si è dotato e la legge urbanistica. Sui territori tutto questo si declina con progetti strategici. Al momento sono già sette i piani di paesaggio finanziati dalla regione. Il primo che potremmo definire quello pilota, quello legato alle Leopoldine, è oramai in fase di approvazione definitiva. Poi ve ne sono altri, che sono quelli che riguardano i territori del Pratemagno, i territori del Mugello, che stanno attorno al lago di Bilancino, la val di Cecina, con riferimento alla presenza della ferrovia cosiddetta letteraria, la lunigiana. Insomma, questi progetti, che sono progetti di area vasta, che cercano di coniugare quello che è lo sviluppo delle politiche regionali con la salvaguardia, la tutela, la conservazione, ma anche eventualmente una corretta trasformazione di quelli che sono i valori paesaggistici che queste aree territoriali della Toscana contengono, sono un altro aspetto che definirei molto positivo. Forse non tutti sanno che la Convenzione Europea del Paesaggio è stata firmata proprio a Firenze venti anni fa e che la Costituzione italiana è l'unica in Europa che contiene un articolo a tutela del paesaggio. È in questo contesto che cinque anni fa la Toscana si è dotata di un nuovo piano territoriale con valenza di piano paesaggistico. A tracciare un primo bilancio di questo quinquennio è l'osservatorio regionale del paesaggio. La fotografia è quella di un paesaggio che vede in qualche modo rallentare alcuni fenomeni di degrado, in particolare quelli riguardanti il consumo di suolo e quello anche dell'abbandono, che sono stati fenomeni importanti. Quindi in questo senso l'osservatorio, attraverso il monitoraggio del piano, ha potuto osservare una situazione che direi generalmente positiva. Esistono ancora l'aspetto di criticità, ma il giudizio secondo me è complessivamente positivo. Ugualmente, anche se con appresentimenti dal punto di vista burocratico, sono il monitoraggio di come il piano viene attuato. In questo senso c'è una difficoltà intrinseca legata alla complessità dei fenomeni di adeguamento alla pianificazione urbanistica. L'altro dato significativamente positivo sono le politiche di settore. Grazie.